Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa classica, la storia di un giovane istruito del Giappone dell'inizio del Novecento, che, nonostante le sue ambizioni e aspirazioni, è costretto a rimanere in provincia lontano dalla vita frenetica della città. La trama si svolge in un contesto di trasformazione sociale, dove le pratiche moderne coesistono con i costumi tradizionali, riflettendo le tensioni e le sfide dell'epoca. Il testo offre uno sguardo intimo e profondo sulla vita e sulle sfide di un individuo in un periodo di cambiamento significativo nella storia del Giappone. Attraverso la storia si esplorano i temi come l'aspirazione, la delusione, la lotta per trovare il proprio posto nel mondo e le conseguenze dei grandi eventi storici sulle vite individuali. La trama del libro Il maestro di campagna dello scrittore Kataita Yama, casa editrice Marsilio, è la seguente. Nel Giappone di inizio Novecento, Ayashi Seizo è un giovane istruito, ambizioso e pieno di aspirazioni. Come molti suoi simili trova nell'arte, nell'amicizia e nell'amore romantico il collante identitario di un'intera generazione. Ma Seizo è anche povero e, a differenza dei suoi compagni che si trasferiscono a Tokyo per studiare, è costretto a rimanere nella provincia di Saitama, nella piana del canto. Qui, nello spazio ibrido della periferia rurale di un paese in via di industrializzazione, tra pratiche di vita moderne e costumi tradizionali. Accetta con scarsa convinzione un posto da maestro nella scuola elementare di un piccolo villaggio. Deluso progressivamente dall'amore e dall'amicizia, frustrato nei suoi propositi di affermazione sociale e di ambizione artistica, Seizo sembra poco alla volta accettare la propria sorte. Ma proprio quando ciò avviene la tragedia lo colpisce. Negli stessi giorni in cui il Giappone esulta per le vittorie della guerra russo-giapponese del 1904, Taitama Katai ripercorre la traiettoria di un vinto basandosi sui diari di un giovane realmente esistito. Con il potente ritratto dei sogni e degli ideali di un'intera generazione, questo libro costituisce un documento storico letterario, ma anche un'originalissima riflessione sulla modernità all'interno delle comunità rurali. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.